eccoci qui quanto tempo quanto tempo siamo qui con la quindicesima giornata l'ultimo poi finalmente c'è questa pausa ragazzi quando c'è il cane che bussa stai la dicevo ultima giornata poi si va finalmente in pausa ci voleva io veramente ho visto ieri la lazio monza poi detto vabbè giocheranno un po strette il sabato e la domenica no vado a vedere in poli cremonese oddio ho detto devo fare assolutamente i pronostici eccoli qua foglio nuovo quindicesima giornata si parte questa sera in poli cremonese ma sta a vedere ma la cremonese ma in poli fa il colpaccio io io ho giocato uno più gol cioè non uno più volo o uno o gol mi piace il gol l'empoli secondo me è favorita quello che la collega limonese una di queste due poi domani alle 15 napoli udinese per favore per favore me lo fermate sto napoli per favore per favore almeno giusto per andare alla pausa sapendo che il napoli è fermabile perché 10 vittorie consecutive se vince anche domani e 11 non si ferma più sono napoli io gli ho messo anche qui uno fisso se la sbaglio sono contentissimo sono veramente contento io spero che credo che non spero credo che domani un gollettino lo possa anche prendere quindi un gol non mi dispiacerebbe poi ore 18 samp lecce la samp è chiamata vincere anche se veramente una delle peggiori squadre di quest'anno il lecce è in forma votato l'atalanta io mi gioco l'x2 mi gioco l'x2 ma non credo che la lecce vada lì e vinca anche con la samp cioè se vince anche con la con la samp è una squadra che sicuramente si salverà secondo me perché è una squadra che sta macinando macinando è sempre le ultime nelle zone nel gorgo delle ultime in classi delle ultime in classifica però diciamo che samp e cremonese sono le prime indiziate ad andare in serie b e ne manca una lecce io la vedo bene detto proprio onestamente io quest'anno il lecce la vedo bene e l'altra che vedo male è l'ellas quest'anno secondo me quelle che retrocederanno saranno samp e cremonese ed ellas verona quindi samp e lecce io gli gioco l'x2 che è andato abbastanza bene poi alle 20.45 c'è il derby dell'emilia bologna e sassuolo bologna che ha acchiappato le mazzate forti con l'inter 6 a 1 l'altra sera sassuolo che ha pareggiato con la roma io vedo un gol squadre che giocheranno per vincere per vincere oddio sassuolo è una squadra un po più propositiva del bologna ma tiago motta da quando è arrivato al bologna sta facendo cose decenti è un allenatore che ci sta secondo me tiago motta gol nonostante mi stia antipaticissimo per quello che è stato nella spezia l'anno scorso bologna sassuolo gol poi domenica e finalmente non si giocherà il lunedì perché domenica è l'ultimo giorno domenica 13 novembre l'ultimo giorno poi c'è stata questa pausa benedetta dal signore 12 30 atalanta inter atalanta che arriva dalle scopole con lecce l'inter che viene dal 6 a 1 facile in casa col bologna io rigioco l'x2 l'x2 allora il 2 data 1 e 90 io non riesco a capire perché cioè veramente l'inter va lì è favorita l'atalanta sta facendo un po schifino ultimamente mi sembra che le uniche due partite che abbia perso non so se poi ce n'è altre mi ricordo quella con la lazio e appunto quella scorsa con lecce aveva fatto un inizio fantasmagorico l'atalanta insieme al napoli adesso sta un po più capito scemando la cosa quindi x2 è proprio stai sereno è la spezia squadre bruttissime per squadre che giocano male veramente male giocano veramente per non perdere principalmente io queste squadre qui non le sopporto io dico che l'ella sa sto giro in casa con lo spezia non perde e se dovesse perdere ragazzi è andata diciamo c'è la tutta quindi è la sospezia 1 x monza salernitana monza salernitana io ho guardato le quote c'è l'over casa a 0.5 quindi un gol solo del monza dato a 1 e 40 io me lo gioco over casa c'è contro la salernitana il monza giocherà per vincere anche la partita quindi il gollettino sicuramente secondo me lo fa over casa e vai tranquillo poi roma torino sono due squadre che non segnano proprio tanto tanto io mi rischierei due e mezzo over due e mezzo ma per stare più tranquilli giocatevi l'over uno e mezzo perché secondo me sarà over due e mezzo per stare abbastanza sereni ore 18 milan fiorentina fiorentina che viene da se non sbaglio o tre o quattro vittorie consecutive in campionato anche in conference ha vinto mi pare contro gli hertz e contro il riga col baciac c'è ir si ha vinto quindi non perde da una miriade di partite io non ho giocato nell'uno nel due mi gioco l'over due e mezzo il milan che secondo me tornerà a prendere gol dopo il clean sheet che è stato veramente merdoso contro la cremonese perché non ha mai tirato in la cremonese quindi over due e mezzo e fatemi andare per favore alla pausa con tre punti sereno cioè senza farmi sfasare senza farmi sfasare nel video post col milan fiorentina che già con l'immagine e poi la sera ragazzi juventus lazio juventus lazio la lazio seconda in classifica perché è sopra di noi per la differenza reti e la juve che sta andando forte ultimamente guardate guardate cosa ho fatto io in questo foglio qua guardate cosa ho fatto cioè non ho saputo mettergli niente juve lazio guardate quindi la faccio proprio in live io così con voi torna immobile da juve una squadra che insegna abbastanza poco alle tre e mezzo è state sereni guarda lo scrivo adesso in diretta abbiamo fatto l'abbiamo fatta in diretta quindi poi finalmente con queste schede poi ci andiamo in pausa perché ci andiamo in pausa perché è stato uno scempio speriamo di migliorare nel 2023 e che dire iscriviti al canale perché veramente veramente ti dà un pugno tira solti iscrivervi al canale iscriviti al canale mi piace e condividi a tutti